Ciao a tutti voi ragazzi e ragazze, io sono il vostro caro Mastroking e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft ETA della seconda stagione Allora, nello scorso episodio, se non ricordo male, abbiamo fatto la sala delle fornaci E appunto abbiamo cominciato a abbellire casa, cosa che ho completato Quindi ho messo le cose sia sopra che sotto E poi si è stato qui la stanza sistemata E invece per quanto riguarda la miniera Ho messo diciamo il Minecraft che sia che mi porta giù e sia che mi porta su Quindi come vedete ho messo le torce praticamente ovunque E volevo dire L'unica pecca, diciamo, è per la risalita Intanto come vedete ho messo la parte della torce che ho tolto Ho messo il granito sotto, la diorite accanto e l'andesite sopra Così rimane più carino da vedere L'unica pecca è per i primi due salti Diciamo che non ho ancora le rotaie queste qui potenziali da poter mettere Quindi appena avrò... Diciamo non è un problema di redstone, più che altro è un problema di oro Che è quello che mi manca Allora, innanzitutto Quello che volevo fare in questo momento Far partire una strada da qui Ovviamente tutto fatto di gravel Che mi porterà poi sopra, diciamo, la stanza delle tornaci Poi lì accanto Quindi accanto alla stanza delle tornaci Di fare un'altra stanza Infatti come vedete ho parecchie Mi metterò parecchie cesta E quindi di fare qui Cioè di fare qui Di fare qui accanto Appunto la stanza delle ceste Quindi il magazzino Che comunque sarà necessario Perché diciamo Forza di minare Sto avendo, sì, vero, tante cose Però diciamo che troppe cose E quindi necessito assolutamente Di una Di un Di un, diciamo, di una Di un magazzino Per poter mettere Le cose che Raccolgo, diciamo Ok Intanto Da qui Proseguo a piazzare Diciamo La strada E diciamo La parte della miniera In cui Diciamo La adobbavo Non è che Diciamo Ho preferito Non Farvela vedere in video Più che altro perché Cioè Ero io che scavavo E piazzavo blocchi Quindi non è che Era molto carino Da vedere Però in questo modo Posso Diciamo Se è vero Pure ora Sto semplicemente Piazzando blocchi Però Ora come ora Posso Parlarvi Di Di qualcosa Diciamo Cioè Quindi Di scrivervi Quello che Stavo Che sto facendo In questo momento Allora Che poi Tra l'altro Si sta facendo Pure buio Quindi Tra poco Vado Diciamo Piazzo un po' Di torce In giro Qui intanto Lo faccio A tre E poi Si passerà A uno Ok Allora Piazzo un po' Di torce Qui e là Perché Sì Un po' Lo piazzare Però Meglio abbondare Che deficere Come si sol dire Allora Sicurano Qui Ok Diciamo Per il momento Abbastanza illuminato Allora Ora vado a dormire Poi presto Metterò Anche Sposterò Sistemano Questa stanza E farò Una cosa Veramente Veramente Carina Allora Diciamo Innanzitutto Mi servono Un po' Di blocchi Si Notate Bene Che ho Parecchio Diciamo Parecchia Neve Ok Diciamo Un po' Di stone Me la metto Da parte Mentre Stone bricks Me li metto Qui Ok Poi Sistemerò Pure La strada Sempre in questo video Allora Quello che volevo fare Innanzitutto Di spianare Un minimo Qui Così Così Posso già Cominciare A Piazzare Una Diciamo Una sorta Di Non dico Di pavimento Però Di Base Per La struttura Allora Che Praticamente Ho già Quasi Fatto Poi Successivamente Per i dettagli Mi servirà Parecchia Legna Che non ho Tra l'altro Quindi Però Non so Neanche Se Riuscirò A finire Diciamo La costruzione In questo video Diciamo Vediamo Dove Riesco Ad arrivare Oggi Ok Quindi Sicuramente Mi servirà Una base E Lì C'è pure Uno scheletro Che Ammazzerò Molto Volentieri Neanche Un osso Mi ha Dato Che Poi Diciamo Abbastanza Difficile Ottenere Le ossa Di scheletri Allora Non mi ha Contato Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove 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 Sei Dieci Undici Ti controlliamo Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Neanche a farlo opposto Giusto Giusto Poi abbiamo Uno Due Tre Un Due 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 Tre Quattro Cinque Seis Sette Otto Nove Dieci E Undici Quindi Ricontiamo Quindi Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci E Undici E tutta questa parte e mezzo andrà via tutta Anzi quasi quasi faccio prima a piazzare Così da poter Da poter signare diciamo il pericolo delle basse Quindi tre Sei Sette Otto Nove Dieci E undici Ok Ottimo Così ora come ora riesco diciamo abbastanza Facilmente A capire il perimetro E quindi E a fare E quindi Sistemare La Sistemare diciamo il pavimento I tappetini non li ho presi Però Serviranno poi dopo Diciamo per abbellire Quindi per il momento Non servono Quindi Ora Semplicemente Piazzo Tutta la Gobleston Che Fidare Ne ho Veramente Veramente Tanta Ora Invece Per quanto riguarda L'altezza Si diciamo si baserà Il tutto A seconda delle ceste Quindi Sicuramente Poi prenderò Quelle che stanno Quelle Due doppie ceste Comunque Comunque Quelle due doppie ceste Che stanno lì E me le porterò Ah quindi posso pure Non la sapevo questa cosa Quindi posso pure mettere Due doppie ceste Qui accanto Quindi L'ingresso Singolo Quindi che mi pare Che sta qui Ok Noi abbiamo 1,2,4 1,2,3,4,5 Noi abbiamo 1,2,3,4 1,2,3,4 Ok Quindi E' praticamente Pressoché Un ingresso Doppio Ok Stesso discorso Vale per sopra Mi devo ricordare Che ora Dalla 1,13,2 Le ceste Le ceste Hanno Anche un verso In cui Essere piazzate Penso Ora come ora Che verranno Circa Tre piani Spero Almeno Che Sempre Se non mi dimentico Di premere Shift Quando piazzo Le ceste Sarebbe Cosa buona È giusta Ok Praticamente Penso Si che rimangano Solo Tre piani Probabilmente Quelle ceste Che stanno Lì All'interno Verranno Utilizzate Solamente Per Diciamo Non Non dico Come eccesso Più che altro Come in più Si infatti Perché Non penso Di riuscire A farne Delle altre Poi Allora Ora Devo pensare Alle pareti Che ovviamente Farò di stone bricks Poi 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 Tra una Doppia cesta E l'altra Ovviamente Metterò Delle torce Così Da non Da non Far sponare Nessuno All'interno Della Della costruzione Ok Anche se Sinceramente Non so Se queste Questi stone bricks Mi bastano Però Tanto Io ci provo A farmi Diciamo Ci provo A farmi Ribassare Altrimenti Gli prendo Altre Da quelle cesta Ok Vediamo Comunque Si Penso Proprio Che mi bastano Comunque Arriviamo A 5 Mentre Il tetto Pensavo Di farmelo Di Stone Normale Diciamo Il piano interno Poi Mentre Quanto riguarda Proprio La forma Poi Quella La vedremo Prossimamente Diciamo Ora come ora La necessità Primaria E' questa Di creare Un minimo Di magazzino Poi farò Diciamo Una sorta Di Sistema Di stradina Pur verso Di là Ok Ok Comunque Non so Se Mi basta Diciamo Da tutto Si lo so Da tutto L'episodio Che dico Non so se Mi basta Non so se Mi basta Ma alla fine Mi basta Sempre Diciamo 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 In questo caso Non credo Che uno stack Solo di Stonna Mi basta Quindi Ok Tanto Approfitto Mangio il pullo E Tra l'altro È anche finito Ok Le torce Allora Si Stone Ce ne ho Meglio così Si sta facendo Anche notte Quindi Diciamo Poco male Perché così Approfitto Pure per Ottimizzare La luminosità Della stanza Ok Sicuramente Come ho già detto Li piazzerò Tra una cesta E l'altra Ok Giusto Qui E giusto Qui Perfetto Si Riempio sempre Tutto di torce Perché Torce Perché Meglio averne Di più Che di meno Di luce Che poi Tra l'altro Come l'hai visto Lì Era sponato Uno scheletro Però Diciamo Ne è sponato Uno Quindi Non è che Ce ne stavano Chissà quanti Ok Allora Diciamo Per il momento Togliamo questo Mettiamo La caravel Che poi Devo pure Andare A prendere L'altra Perché Sapete meglio di me Perché Perché Come vedete È necessario Per fare Le strade Ok E Non mi basta La gravel Non so Non mi Non credo Però Non ricordo Se ne avevo Ancora Qui Allora Gravel 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 Non la vedo Dovrò pure Ordinare Parecchio Dei cose Qui No Non la vedo Qui si Ho Molte Rail Che Come Avete notato Allora Diciamo Come Piccola Missione È utile Andare A prendere La gravella Allora Direi Diciamo Di Non andare Oppure Di qua Non è che sarebbe Vale Andarlo A prendere Perché Di qua Ci sono Diciamo Lì c'è il fiume Qui ci stanno Questi laghetti Diciamo Invece Della terra Come in questo caso A volte Particolare Nei fiume Ci stanno Come pavimento Ci sta la gravel E quindi Si può raccogliere In grandi quantità E in Diciamo In poco tempo Intanto Approfitto Pure Per prendere La sabbia Perché Diciamo Sarà fondamentale Per le Anche per le Prossime Costruzioni Che avrò Intenzione Di fare Di portare Sul canale Quindi Così Approfitto Delle Così Approfitto Pure L'efficienza Del Del Appunto Della Sopra Fornace Qui tra l'altro C'è pure La clay Che Veramente Ottima Perché Come avete visto Diciamo Nello scorso Episodio L'ho sfruttata Facilmente Cioè L'ho sfruttata Molto Oppure In futuro La posso Sfruttare Magari Non la sfrutterò Come Come scale Ma la sfrutterò Più che altro Come Più che altro La sfrutterò Come Clay Cioè Quindi Come Pietra Che Le Indurita Quindi Che Poi Non ho Puro Un'altra Cosa Che Tenendo Premuto Il Tasto Shift Mentre Si è In acqua Si scende Più Velocemente Diciamo Quello Almeno Questo Vale Dalla 13.1 Cioè Dalla 1.13 Ok Per il momento Raccolto Abbastanza Clay Cioè Gravel Poi Diciamo Questa cosa Di raccolta Me la farò Poi Off camera Diciamo Da solo Ok Ora Devo puntare A risalire Per Tornare Diciamo A casa Per finire Il lavoro Ok Poi Doverò Fare Tante Mob Farm Diciamo Doverò fare Tante cose Doverò fare Una Mob Farm Poi Doverò Fare Per esempio Il Il Diciamo A parte Le varie Mob Farm Doverò Doverò Organizzare Un modo Per fare Tante esperienze Poi Se non ricordo male Dalla 1.13 La Vecchia Farm Di pesca Non funziona Più Quindi Doveremmo Utilizzare Un nuovo Per pescare Così Tanto E Soprattutto In così Poco Tempo Ok Allora Intanto Sfrutto Queste Poche Scale Che ho Diciamo Diciamo Per Abbellire In qualche Modo La Strada Ok Ok Diciamo Di sì Perché Mi spiego In questo modo Comunque Non è che Si scende Diciamo Non si fa In tempo Scendere Quindi È Diciamo Carino Perché Diciamo Non è che Non si fa In tempo Non c'è Abbastanza Spazio Per scendere Quindi È perfetto Per quello Che volevo fare Comunque C'è Una cosa Di smisura Che Che Va benissimo Per questo Quindi Se sta cosa La si fa Dall'altra parte Poi tranquilli Ragazzi Le torce Le ripiazzo Tutte Diciamo Quello Che Diciamo Modifico Piano piano Modificando La Mappa Si Cambieranno Parecchie Diciamo La Soddivisione Sia Di torce Che Di altro Quindi Direi In questo Caso Di metterlo Qui E poi Di metterlo Così Ok Sì Non mi Convince Più di Tanto Poi Datemi Archi Consiglio Nel Consiglio Nel Commenti Magari Questo Lo possiamo Mettere Così Così Ok Così Già Molto Meglio Sesso Discorso Di Qua Quindi Ok No Un piccone La pala Ok Quindi Discorso Analogo In quest'altro Verso Diciamo Che Prevalentemente Non so Se La Diciamo Queste Non credo Solamente Che Mi Bastano Però Diciamo Speriamo Di farcele Durare Il più Possibile Ok Allora Comunque ragazzi Spero A voi Come sta Diciamo Diciamo Frei Chiedervi una cosa Diciamo A voi Personalmente A scuola Come Vi va Spero Comunque Bene Perché Io diciamo L'anno scorso La fine Cominciai L'università E quindi Diciamo E quindi Non riusci A essere Sempre Non riuscivo Sempre A caricare Video Però Diciamo Ho trovato Un sistema Per Non dico Per velocizzare Però Diciamo Abbastanza Utile Diciamo Abbastanza Più comodo Per Per Ottimizzare Il Il Tempo Se è così Possiamo Dire Che poi Sta facendo Un'ottima Un'altra Volta E quindi Potremmo Essere Fregate Però Direi Quasi Di fare Così Così Ottengo Quello Che voglio Allora Inziamo Terra Rimettiamo La gravel Alla So Posto Ok Penso Che Una volta Neanche Riuscito A arrivare Fino Alla Quindi Però Devo Dire Che Così Diciamo Mi piace Come è strutturata Come è strutturata La 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 mappa Diciamo Come sta Crescendo Ok Allora Ragazzi Direi Che per questo Video È tutto Tanto Io mi Sistemo Appunto Il discorso Scale Allo stesso Tempo Organizzo Un po' Le cose Qui Spero Che Questo Video Vi sia Piaciuto Se è così Mettete un bel Mi piace Iscrivetevi Al canale E Seguitemi Su Twitter E Instagram Facebook Ovunque Voi Vogliate Ciao A tutti Voi Ciao Ciao